La Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori, compie 100 anni. A festeggiare il centenario dell'ente è presieduto dal noto senologo barese Francesco Schittulli una celebrazione ufficiale che si è svolta all'Università Pontificia Santa Croce di Roma. Con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, la Lilt opera su tutto il territorio nazionale con 9.000 volontari e 106 associazioni, oltre che 397 ambulatori che sono rimasti attivi anche durante la pandemia. Offrendo oltre mezzo milione di visite oncologiche specialistiche. Presente alla cerimonia anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, che insieme al professor Schittulli ha voluto celebrare l'instancabile impegno della Lilt nella battaglia contro il cancro. Oggi è una celebrazione storica perché il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare a mortalità zero per il cancro, ha detto il Presidente Francesco Schittulli. Ci stiamo arrivando anche se abbiamo registrato una battuta d'arresto negli ultimi due anni a causa della pandemia Covid. E questo ha fatto sì che si trascurasse la pandemia cancro, considerando che ogni giorno nel nostro paese oltre 1.000 italiani hanno la diagnosi di cancro e sono oltre 500 i decessi al giorno per tumore. Numeri drammatici quelli delle diagnosi di cancro che il professor Schittulli ha snocciolato. Soltanto nel 2021 sono stati 183.000 morti e 380.000 nuovi ammalati, mentre sono 4 milioni gli italiani che hanno vissuto l'esperienza del cancro. Il Ministro Speranza ha poi ricordato nel suo intervento come il settore sanitario sia uno di quelli in cui verranno dirottati più fondi provenienti dal PNRR, circa 20 miliardi a cui si aggiungeranno 625 milioni provenienti da un PON Salute che saranno investiti nella sanità del sud.